Ciao a tutti e bentrovati in questa puntata di pensiero computazionale e apprendimento creativo. Mi presento, io sono Flavio e oggi vorrei esplorare con voi Scratch, il primo tra una serie di strumenti che sperimentiamo in questo percorso formativo. Ma chi sono io? Questa è una bella domanda, potrei presentarmi in tanti modi differenti, però oggi voglio farlo realizzando un progetto Scratch. Vedete? Questo sono io, mi chiamo Flavio e mi piace fare un sacco di cose. Una tra le mie passioni preferite è volare in parapendio con i miei amici. Pensate, una volta incontrato in volo un aquilotto, è stato bellissimo, abbiamo fatto un bel giro tondo insieme. Bene, in questa puntata scopriamo innanzitutto come creare il nostro primo progetto in Scratch, poi vediamo come iscriverci alla piattaforma online, quella che utilizziamo per creare i nostri progetti. Infine proviamo concretamente e insieme a muovere i primi passi con Scratch. Prima di tutto dobbiamo iscriverci alla piattaforma Scratch. Digitiamo nel browser l'indirizzo scratch.meet.edu e poi clicchiamo sul pulsante in alto a destra Unisciti alla comunità di Scratch. Ora possiamo scegliere il nostro non utente, una password e poi seguiamo le indicazioni della procedura di iscrizione. Importante, al termine di tutti questi passaggi riceveremo un'email da parte dello Scratch team. Ricordiamoci di fare clic sul link contenuto in questa email perché così verranno abilitate delle importanti funzionalità, per esempio il remix e la condivisione di progetti. Ok, per iniziare ci colleghiamo al sito scratch.meet.edu. Adesso possiamo loggarci e poi possiamo creare il nostro primo progetto. Clicchiamo su Crea. Ecco, questa è la nostra interfaccia utente e in inglese, possiamo impostarla in italiano andando a cliccare su questo mappamondo. Quelli che vedete sulla sinistra sono una serie di blocchetti che utilizzeremo per programmare il nostro sprite. Lo sprite è questo pupazzo a destra e sono raggruppati per funzionalità. Funzionalità movimento, aspetto, suono, situazioni. Iniziamo con situazioni. Questo è il punto di partenza del nostro programma. Poi potremmo cambiare per esempio l'aspetto. Chissà cosa farà questo blocchettino. Proviamo. Se gli clicco sopra, ok, pronuncia la parola ciao utilizzando un fumetto. Vedete? Io quindi aggiungo questo blocchetto, lo incastro con l'inizio del programma e gli cambio il testo. Ciao a tutti, sono un gatto che cambia colore. Vediamo come fargli cambiare colore. Voglio fargli cambiare colore un po' di volte, quindi per esempio dieci volte. Poi andiamo a cercare in aspetto il cambia colore. Eccolo qua, cambia effetto colore di 25. Aggiungiamo una pausa così i cambiamenti non sono velocissimi. attendi mezzo secondo, quindi 0.5. Ok. E proviamo a vedere cosa succede quando premo la bandierina verde. Ciao a tutti, sono un gatto che cambia colore. Ecco qua. Se volete potete aggiungere un secondo sprite tra questi disponibili, cliccando su questa icona. Per esempio, proviamo con balloon. Ecco che vedete ci sono due sprite. Il gattino e il balloon. Quando andiamo sul sprite balloon vedete che il codice è vuoto perché dobbiamo ancora aggiungercelo. Mentre nello sprite, sprite 1, che possiamo rinominare gatto, c'è il codice che abbiamo scritto un attimo fa. Possiamo anche scegliere uno sfondo andando a selezionare questo icone in basso a destra e lasciarci ispirare dallo sfondo che più ci piace. Per esempio questo. Proviamo ad aggiungere un codice all'interno del nostro sprite balloon, quindi andiamo su balloon. Anche qua, quando clicchiamo su bandierina verde, questa volta aggiungiamo un per sempre, perché voglio che il palloncino si sposti per sempre. Movimento. vediamo un po', chissà cosa serve questo blocchettino qua. Molto semplice. Scivola in un secondo a posizione a caso. Proviamo. Facciamo partire il programma. Ecco qua. Ciao a tutti. Sono un gattino che cambia colore e il palloncino si sposta ciclicamente in posizioni a caso. Stoppiamo il programma. Dammi un nome. E salviamo. Dove vengono salvati i miei progetti? Beh, vengono salvati le mie cose. Troviamo qua. Clicchiamo su questo triangolino bianco, le mie cose. In questa pagina abbiamo raggruppati tutti i progetti a cui noi abbiamo lavorato. Qua vedete, c'è il progettino che vi ho fatto vedere prima, all'inizio di questo video. Come vi dicevo, Scratch è molto di più di un linguaggio di programmazione grafico. Scratch è anche una comunità di apprendimento online. Proviamo a vedere come esplorare questa comunità. clicchiamo sul pulsante esplora. Qua possiamo visualizzare i progetti o le gallerie di progetti realizzati da persone in giro per il mondo. Possiamo cercarli anche per tema, per keyword specifica. Per esempio, la parola chiave è musica. Questi sono tutti i progetti che hanno come tema, appunto, una musica. Proviamo a prenderne uno. Se clicchiamo su bandina in verde il progetto verrà avviato. Possiamo fare di più, possiamo vedere come è fatto dentro. Oppure possiamo farne un remix. Però questo lo vedremo la prossima volta. Un'ultima cosa. Non preoccupiamoci. Non dobbiamo conoscere a memoria cosa fa ogni singolo blocco. Nessuno li conosce tutti. Proviamo a esplorare liberamente tra tutti questi blocchetti colorati. E quando siamo curiosi di sperimentare un nuovo blocco, proviamolo. Basta fare clic sul blocchetto e scoprire cosa succede. E ora tocca a voi. Provate a realizzare un semplice progetto per presentarvi e per muovere così i primi passi con Scratch, proprio come abbiamo fatto in questa puntata. Per fare questo progetto i passi da fare sono tre. Iscriversi alla piattaforma Scratch, scegliere uno sfondo e uno sprite che vi rappresentano, scegliere i blocchetti che vi serviranno per dare vita alla vostra presentazione. Prima di salutarci vi segnalo alcune risorse utili. I tutorial. Funzionano molto bene in didattica a distanza, anche perché sono disponibili direttamente nella piattaforma Scratch. Sono suddivisi per temi e potete scegliere il tutorial che più vi incuriosisce. Poi ci sono le Scratch Card, tradotte in italiano. Queste funzionano molto bene in presenza. Potete scaricarle, stamparle e utilizzarle con la vostra classe. Anche le Scratch, come i tutorial, sono suddivise per temi. Anche qua vi suggerisco di scegliere il set di carte che meglio risuona con le vostre passioni. Cosa facciamo nel prossimo incontro? Continuiamo a lavorare al nostro progetto e sperimentiamo insieme nuovi percorsi creativi.